Ariete, affrontate i problemi della giornata nel modo a voi più congeniale. Non ci sono regole da seguire se non quelle che è il vostro istinto a dettarvi. Toro, le capacità non vi mancano e vi verrà offerta un'occasione irripetibile per metterle in mostra. Gemelli, lavorando da soli potreste guadagnare un certo vantaggio sugli altri, ma ci sarà un momento in cui potreste sentire il bisogno di un po' di sostegno psicologico. Cancro, potreste dover affrontare una serie di situazioni per voi del tutto nuove. Potreste decidere di voler adottare un approccio altrettanto nuovo. Leone, siete disposti a correre un rischio pur di accorciare le distanze fra voi e un vostro avversario? Questa potrebbe essere una partita che preferirete perdere. Vergine, quella della sicurezza deve essere la vostra principale preoccupazione. Non è il caso di esporre voi stessi o una persona cara ad un rischio inaccettabile. Bilancia, le aspettative che qualcuno ripone in voi sono elevate. Vi ritroverete ad avere una quantità di cose da fare in uno spazio di tempo limitato. Scorpione, un personaggio che appartiene al vostro passato potrebbe fare una apparizione a sorpresa per chiedervi qualcosa che non siete del tutto disposti a dargli. Sagittario, potreste non riuscire a ottenere ciò che volete, ma almeno i vostri tentativi vi consentiranno di farvi un'idea più precisa di ciò che è alla vostra portata. Capricorno, sarete pronti ad accogliere le richieste di aiuto di un amico o di una persona di famiglia e a mettere da parte i vostri programmi per la giornata. Acquario, questo non è certamente il momento di pensare al passato e rimpiangere certe decisioni, piuttosto concentratevi su un futuro che mai come ora vi è sembrato tanto promettente. Pesci, potrete godervi una molto meritata pausa dal lavoro. Approfittatene per valutare i vostri progressi e decidere le strategie da adottare prossimamente.